L'oracolo è all'interno. Finalmente avrò delle risposte. La pizza è davvero ben protetta. 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 nella pizza è davvero Stellen Simon. probebasi sono affatti su usibili insieme. Sotto il tempio di Apollo c'è una stanza antica. credo che si incontrino lì. ma senza la loro maschera o il loro mantello non riuscirai a entrare. Dove lascio trovare quei mantelli e quelle maschere? se un uomo che ogni tanto viene da me si assicura che io venga trattata bene? Ho la casa più grande della cora di Delphi, eppure continuo a offrirmi dracme per il disturbo. Mi mette i brividi. Come si chiama? El Penore. El Penore? Fa parte della setta! Non ne sono sicura, ma se così fosse, avrebbe certamente ciò che cerchi. Hai idea di dove possa trovarlo? Appena a sud della Valle della Ninfa c'è un forte. Si dice che lì conduca degli affari. Sei stata utile. Ora esci da casa mia. Devo riferire a Erodoto quello che la Pizia mi ha detto della setta. Forse avrà qualche idea. Allora? Che ti ha detto la Pizia? La setta di Cosmos mi cerca, ma ho intenzione di trovarli prima io. Dice che si trovano in una stanza segreta, sotto il Tempio di Apollo. Allora, una cosa è stato ingannare questo vecchio. Non puoi entrare senza maschera e mantello. È così che i membri della setta si riconoscono. Il Tempio di Apollo è vicino alla Grotta di Gaia. È facile da trovare. Ma una maschera e un mantello della setta? Come farai a trovarli? La Pizia mi ha dato un indizio utile. Quando sarò pronto, ti raggiungerò al Tempio. Ora, vado a uccidere quel bugiardo bastardo di El Penore. Allora, vado a uccidere quel bugiardo.